Ciao a tutti ballarada, oggi siamo in un nuovissimo video e allora siamo a recensire un film che è una squadra di 12 orfani però prima di iniziare la recensione mi volevo dire di lasciare un bel like al video e poi di iscrivervi al canale e lasciare tutti i like al video del mio canale perché è pieno di avventure il mio canale tipo urbex con mia mamma, mio papà, io e poi alcune volte anche con dei miei amici e poi videogiochi, poi pallone alcune volte sempre con il mio amico Mattia che forse l'ho fatto solo con lui e poi un po' di tutto, quello che ci capita capita quindi oggi siamo a recensire questo film, una squadra di 12 orfani ok, gli parla che è arrivato questo lui, quello con gli occhiali, quello giovane con gli occhiali è arrivato a questo orfano perché li voleva tutti adottare e quindi è andata a vivere lì con sua moglie, con tutta la famiglia è andata a vivere all'orfanotrofio e quindi tutti loro hanno formato una squadra da rugby non so se è football americano o rugby e vabbè parla che poi è arrivato anche questo ragazzo che loro lo chiamano Brown perché dicono che mi fa così che dicono che aveva ucciso il padre, vabbè ora non vi svelo niente vi dico solo questo e quindi lui l'avevo messo tipo per capitano, ora non mi ricordo e niente quindi poi niente hanno iniziato ad allenarsi questi 12 orfani e sono arrivati anche ai campionati e quindi erano diventati forti e poi questo, sempre quello con gli occhiali, giovane ha inventato una formazione di football americano se non mi sbaglio è sei in dife, sei in attacco e tre in dife non me lo ricordo ora e vabbè e aveva inventato questa formazione e ha ambientato una storia vera questo film e quindi poi niente loro avevano iniziato che erano delle schiappe e sono diventati fortissimi e poi ognuno da grande è sempre ha fatto successo a parte qualcuno che è andato nelle miniere a scavare poi niente quindi questo film basta aspetta no ma l'ho già detto vabbè ragazzi lasciate stare perché qua sono un po' fuori di testa non hai sentito vabbè e quindi niente ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like iscrivetevi al canale e al prossimo video ciao 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 ciao